Apicoltori professionisti da tutta Italia e dall'estero in arrivo in Toscana, grosseto per il 36esimo congresso nazionale dell'apicoltura professionale dal 29 gennaio al 2 febbraio, presentato nella sede della presidenza della regione toscana a Firenze. La Toscana, quinta regione per numero di alveari e quarta per numero di apicoltori, è stata la prima a dotarsi nel 2009 di una legge, aggiornata nel 2018, per aiutare il settore. Ci sono stati ingressi di produzioni di miele di scarsa qualità a prezzi stracciati e sicuramente questo come regione toscana non lo possiamo né condividere né accettare. Quindi benvenga questo congresso, un momento di confronto, come dicevo, anche col mondo accademico, col mondo scientifico. Nel 2019 la Toscana ha dovuto fare i conti con un'annata che ha messo in ginocchio il settore a causa dei cambiamenti climatici, per questo la regione ha attivato microfinanziamenti a tasso zero per le imprese apistiche e contributi per quelle che spostano le arnie in base alle stagioni. Il 2019 è stato l'anno probabilmente il peggiore di sempre per l'apicoltura toscana, con cali produttivi del 70-80%. Oltretutto gli apicoltori sono stati costretti a sostenere le api nutriendole, quindi invece di produrre hanno dovuto nutrire le api. A livello nazionale il settore dell'apicoltura conta 60.000 apicoltori e un milione e mezzo di alveari, metà stanziali e metà nomadi per una produzione che vale 150 milioni di euro. Da qui l'importanza del convegno. È importante perché la 36esima edizione pone sul tavolo tutte le maggiori problematiche del nostro settore. è il mercato, la sostenibilità della produzione e la nuova PAC e altro, quindi si toccherà una serie di temi strategici.